Ad Adana è stata intensificata la caccia agli incivili, ovvero a quei cittadini che sporcano la città depositando rifiuti di ogni genere in luoghi non consentiti. Insomma, tempi duri per gli sporcaccioni, l'occhio del grande fratello ne ha beccati in questi giorni oltre una decina grazie all'attività svolta dai vigili urbani su disposizione dell'amministrazione comunale Adanita. Colte sul fatto diverse persone, mentre buttano spazzatura in varie zone della città. Per loro, dopo essere stati individuati, una multa di 54 euro, come stabilito nell'apposito regolamento comunale. Con il supporto della tecnologia, dunque, l'amministrazione tende di fronteggiare un fenomeno piuttosto diffuso ad Adano, quello appunto di buttare spazzatura in aree pubbliche. Nelle immagini vediamo incivili, in azione, in più zone della città. È emblematico questo fermo immagine dei vigili urbani. Siamo nella parte alta di via Vittoria Emanuele, di fronte all'Istituto San Giorgio Gualtieri. La spazzatura qui si butta con tutta la famiglia al seguito. Così, tanto per dare il buon esempio. Incivili colti anche nella zona travaso di via Edoardo De Filippo e in altri ancora. Ma i controlli continueranno, ed è bene che gli incivili lo sappiano, perché rischiano di essere immortalati non facendo certo una bella figura. Al riguardo è accaduto che un cittadino è stato convocato al comando dei vigili urbani per contestargli il fatto che aveva buttato spazzatura in aree non consentite, ma l'uomo ha negato. A questo punto i vigili urbani gli hanno fatto vedere le immagini, con lui protagonista mentre fa il lancio del sacchetto. Poi si è scusato ed ha pagato la multa. I controlli dei vigili verranno estesi anche nelle zone di Via Reale, Spirito Santo, Fogliute, Ex Macello e altri ancora.